Abbiamo parlato dei riflessi di questa guerra sulla nostra economia regionale, che purtroppo rischiano di essere drammatici. Alcune imprese hanno una forte propensione sui mercati russi e sul mercato ucraino anche, e in generale sull'area asiatica. Questo rischia di comportare un'incertezza molto pesante per molti produttori, soprattutto nel mondo del fashion, della moda, delle scarpe. E oggi abbiamo incontrato insieme al Presidente Acquaroli, insieme al Presidente Sabatini, una importante delegazione, 50 imprenditori con le associazioni relative, per decidere insieme delle strategie. Abbiamo già in mente alcune idee che percorreremo rapidamente, senza perdere tempo, e cercando di creare, se possibile, un sollievo a questa eventuale perdita di fatturato per le nostre imprese. Gli imprenditori ci hanno chiesto un sostegno economico. Sulla legge 13 potremmo metterci in campo, insieme alla Regione, per mettere dei fondi di sostegno alle imprese, proprio per gli ordini che loro hanno. Ci hanno chiesto anche delle compensazioni importanti sulle fatturazioni già emesse per la liquidità delle stesse imprese, come anche la cassa integrazione in deroga. Certo, stiamo anche analizzando con il Presidente Acquaroli, con il Vice Presidente Carloni, nuovi scenari, nuovi mercati, dove poter magari in questo momento di difficoltà, perché pensiamo che l'evento bellico non venga a terminare subito, magari scoprire nuovi mercati. Ricordiamo che il settore Russia, sul distretto Fermano Maceratese della calzatura, incide quasi l'80%, perciò a livello nazionale i numeri più importanti sono quelli marchigiani che vanno a intaccare su questo evento bellico.